Pari opportunità, possibilità di coniugare impegno politico e vita privata, violenza sulle donne. Sono stati i temi dell'incontro a Palazzo Lascaris tra le giovani cittadini attive di Alessandria e la consulta delle lette. Il gruppo sta seguendo un corso di formazione della commissione Pari opportunità della provincia di Alessandria, finalizzato alla partecipazione attiva delle giovani donne alla vita pubblica. Grazie